Scusate il disabili che ormai sono le 11 di sera Allora, è stata una giornata lunghissima Ma alla fine ci siamo arrivati Ricapitoliamo Ci sono in questo momento camperisti, caravanisti Che devono, vogliono, possono cambiare il proprio mezzo Campeggiatori che devono comprare la tenda Gente che deve prendere gli accessori Ma soprattutto c'è gente che prima faceva le vacanze in crociera Prima le faceva nei villaggi turistici Prima usava l'aereo Che quest'anno, nix Devono venire nel nostro settore E allora che fare? Piangersi addosso? Rimanere bloccati? In attesa di chissà che cosa? No Vediamo di darci una mosse Allora, newscamp per quel che gli compete Cara notizia per quel che gli compete Lancia in questo momento Un'autentica fiera virtuale Si chiama Roulotte e camper in fiera Tutto quanto fa campeggio e turismo in libertà Sottotitoli Allora, di cosa si tratta? In pratica Avrete a disposizione un prodotto web Nel quale Trovare Un elenco di concessionari Con tutti i mezzi nuovi usati In pronta consegna E questo guardate che è importante Per ogni mezzo Sarà possibile Andare in diretta streaming E farsi vedere dal concessionario Il mezzo dal vivo Quindi mi fai Apri il cassetto Vedi eccetera Sarà quindi anche possibile Poi Comprare direttamente il mezzo Eccetera eccetera Come succede oggi Quando si va a comprare Un camper o una caravan Dal concessionario In fiera O Nella propria sede Ma visto che non ci si può muovere Questa è la soluzione Non solo Ma si potranno comprare anche accessori Con la stessa modalità Si potranno vedere anche accessori Eccetera 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 Adesso stiamo definendo L'accordo Con quei concessionari Che ci staranno Non credo tutti Perché poi L'avere tutti E come non avere nessuno Noi vogliamo Concessionari O accessoristi Selezionati E che ci selezioni Quindi Non saremmo lì Certo a cercare tutti E non vogliamo neanche Che ci cerchino tutti Qualcuno I più qualificati I più rappresentativi I più importanti Insomma I più importanti Da tanti punti di vista Questo è quello che faremo Lo faremo a breve Nel senso che dateci Veramente Ancora poco Perché Ormai Il tutto È stato definito Allora A breve Ci vedremo sul web Con Roulotte E Camper In fiera Tutto quanto Fa Campeggio E turismo In libertà Ja Grazie a tutti Grazie a tutti A presto